Nonostante le difficoltà economiche, anche quest'anno la tradizionale fiera d'ottobre a Favara si farà. Da oggi fino a lunedì prossimo, lungo le vie Cicere di Francisca e Ambrosini, saranno presenti gli stand dei 179 espositori partecipanti. C'era il dubbio se farla o meno. La condizione dettata dal comune di Favara e i commercianti per rilasciare l'autorizzazione alle attività di vendita era quella di saldare gli arretrati che gli stessi avevano collente per le partecipazioni alle edizioni precedenti. Obbligo che i commercianti sembrano aver rispettato. La fiera d'ottobre 2013 sarà un'edizione light a causa delle poche risorse economiche disponibili dal comune. Nonostante i venditori ambulanti sembrano aver provveduto a pagare quanto dovuto, non è stato organizzato infatti nessun evento collaterale, così come non sono stati previsti durante il tragitto della fiera i servizi igienici. Non ci saranno quindi installati i bagnotti chimici che in passato sono stati collocati lungo i viali. Dal canto suo l'assessore alle fiere e mercati Giuseppe Miglioti assicura l'apertura diurna e notturna dei bagni presenti allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri e al cimitero. Ma considerando la vasta area della fiera che parte da Viale Ambrosini sino ad arrivare in via Cicere di Francisca in crocio Viale Petronenni, i disagi per visitatori e stendisti potrebbero essere dietro l'angolo. Pensate ad uno stendista che si trova all'inizio di via Cicere di Francisca lasciare la propria merce incustodita per recarsi dall'altra parte della fiera per poter andare in bagno. Sarebbe stato giusto e opportuno distribuire lungo l'asse della fiera dei vici mobili. Tra le novità dell'edizione 2013 lo spostamento dell'area dedicata ai mobili in Piazza della Pace ed il mancato svolgimento della fiera degli animali. Infatti domani mattina in via Grigento si svolgerà la fiera dell'agricoltura e della zootecnia che così come è avvenuto in occasione dello scorso ferragosto non vedrà appunto la presenza degli animali.